Musica Telespettatori di Sella TV, buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di oggi, mercoledì 31 maggio 2023. Andiamo a vedere insieme i titoli con le principali notizie del giorno. Minore fermato con l'accusa di essere seguacce dell'Isis, la difesa dell'avvocato e la famiglia è un grande appassionato di storia. Lega Ambiente punta il dito contro l'aeroporto di Oriol Serio, troppi voli decollano sistematicamente in orario notturno. Caos, guardie mediche e i camici bianchi chiedono migliori condizioni economiche e turri più flessibili. L'8 giugno inizia la demolizione della Curva Sud, tifosi dell'Atalanta invitati nel piazzale per salutare un pezzo di storia. Atalanta domenica contro il Monza arbitra Di Bello, in attacco resta in dubbio Bogà, ballottaggio Lucman Ederson. In apertura la cronaca con la vicenda del minore fermato perché secondo le forze dell'ordine stava preparando un attacco terroristico nella Bergamasca. 17 anni, nato in Camerun ma con la cittadinanza italiana, essendo residente fin da piccolo nel nostro territorio e con un genitore bergamasco. Ora si ritrova nel carcere minorile Beccaria di Milano. Le accuse sono gravissime. Per la Digos di Bergamo e Brescia e per il giudice delle indagini preliminari che ha convalidato l'arresto ci sarebbero elementi chiari che lo accusano di associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e stigazione a delinquere aggravate. Il ragazzo, con frequenza giornaliera, consultava siti palesemente terroristi di matrice islamica. Da lì le indagini della polizia che monitora costantemente il mondo internet. Ma il giovane non si limitava solamente a consultare le pagine jihadiste. Dalle indagini, infatti, sono scaturite informazioni che lo vedevano interessato a compiere degli attentati. Il primo obiettivo sarebbe stato appiccare incendi dolosi sulle colline tra Ponte Ranica ed Alzano. Il 17enne, di fatto, apparterebbe alla rete di sostenitori del Daesh sparsi in tutto il mondo, alcuni dei quali sono finiti in manette proprio in questi giorni. Una radicalizzazione rapidissima, spinta da una rabbia interna verso il mondo dell'insegnamento giudicato razzista, che lo avrebbe portato ad avvicinarsi al terrorismo. Nel suo cellulare tanti video riconducibili all'estremizzazione islamica, con esecuzioni sommarie e il confezionamento di ordigni per gli attentati. Non era solo fruitore, ma al tempo stesso era proprio lui a divulgarli a coetanei e spronarli a fare qualcosa di concreto contro la discriminazione degli europei nei confronti dell'Islam. I familiari increduli, per loro e per l'avvocato difensore, il ragazzo è solamente un appassionato di storia. Cronaca decisamente di un alto tenore, soprattutto perché non si è conclusa con feriti, un intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio attorno alle 14.30 a Bariano. Bruciare è stata una casetta in legno privata che si trovava all'interno di una cascina di via Cascina Corsa. Le fiamme sono state spente dai volontari di Romano di Lombardia e di Treviglio, sul posto anche i carabinieri di Treviglio per far luce sulla vicenda. Torniamo adesso sulla questione dell'aeroporto di Orio al Serio, potenzialità ma anche tante criticità. Legambiente non le manda a dire a Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco. Silvia Valenti. Se avete intenzione di andare in aereo a Colonia, Barcellona o Dublino nel mese di giugno, fate gli scongiuri che il vostro volo sia in orario. Secondo i dati sui decolli dall'aeroporto di Orio al Serio, analizzati in un report di Legambiente Bergamo, dal 2017 ad oggi sono 2.377 i voli partiti in ritardo dopo le 23, con picchi tra giugno e agosto di ogni anno. E le tratte più sfortunate sono proprio le tre città, tedesca, spagnola e irlandese. In media una volta ogni un giorno e mezzo ci sono stati problemi organizzativi che hanno costretto gli aerei a partire in orario notturno. Non si può parlare di singoli episodi dovuti a maltempo o a problemi tecnici che sono anche comprensibili, ma il numero è elevatissimo. Questo significa in modo inequivocabile che c'è proprio un'organizzazione delle partenze da tenere sotto controllo, perché la congestione non può diventare strutturale. Dopo le 23 i decolli sono ammessi solo per problemi tecnici o problemi meteorologici e questo è comprensibile, ma non è invece pensabile che avvengano così tante partenze, decolli, che al momento più fastidioso con impatto acustico maggiore, oltre questo limite di legge. Mentre l'aeroporto si fa sempre più internazionale, con il record di 50.000 passeggeri in un giorno registrato ad aprile, nuove rotte che si moltiplicano, l'ultima annunciata proprio ieri per la capitale della Georgia con voli bisettimanali. L'associazione ambientalista richiama l'attenzione sull'impatto che l'aumento del traffico aereo da e per il Caravaggio ha sulla vita della comunità. Noi chiediamo al nuovo CDA di Sacbo, appena insediato, di rivedere questi aspetti che sono appunto di tipo organizzativo. La città ha diritto ad avere una comunicazione che non sia sempre entusiastica dello sviluppo dell'aeroporto, perché il peso sulla cittadinanza è veramente molto elevato. Ci sono tanti quartieri e tanti paesi limitrofi che vivono con molta sofferenza la presenza dell'aeroporto. Altro tema molto delicato, quello delle guardie mediche che vanno verso una chiusura massiccia. I medici mancano, ma hanno delle recriminazioni. La scia di dibattito sull'annuncio della chiusura di 20 delle 27 guardie mediche in provincia di Bergamo prosegue. Lo scontro è soprattutto politico con i consiglieri regionali del PD, Davide Casati e Jacopo Scandella, che hanno portato la questione in consiglio regionale, firmando un'interrogazione rivolta all'assessore alla sanità Guido Bertolaso per chiedere che vengano chiariti gli steppe della riforma complessiva del sistema di continuità assistenziale. Intanto ATS Bergamo insiste nell'assicurare che nessuna sede verrà chiusa perché si troveranno i medici. Idea poco credibile secondo il sindacato CGL, ma anche tra i medici stessi serpeggia una certa sfiducia circa questa possibilità, perché i numeri ad oggi sono impietosi. Ci dovrebbe essere un medico di continuità assistenziale addirittura ogni 5.000 abitanti, dovrebbero essercene 200. Attualmente sembra che siano una trentina che ha confermato, poi ATS dice che potranno diventare 80, lo speriamo, ma evidentemente il problema è complesso. Ma dov'è il cortocircuito che ha portato a questa situazione? In passato questo servizio, in assenza di titolari, che da tempo sono molto pochi, era garantito dai medici del corso di formazione specifica in medicina generale, che potevano fare questa attività come unica possibile e compatibile. Adesso da un po' di tempo i medici del corso di formazione specifica in medicina generale possono fare già dal primo anno i medici di famiglia, aprono il loro studio, hanno un numero sia pure relativamente limitato di 1.000 assistiti e non fanno più il servizio di continuità assistenziale. Intanto l'estate è sempre più vicina e le località turistiche temono che il problema abbia ripercussione sugli arrivi. Dunque, quali proposte dei medici per sciogliere il nodo? A livello locale, probabilmente un po' più di flessibilità, di adeguamento di orari, di incentivazione economica per quanto possibile, come dicono gli stessi medici di continuità assistenziale, potrebbe riuscire, se non a risolvere, almeno a tamponare il problema. Aeroporto, medici e adesso la scuola, nel mirino di alcuni problemi purtroppo annosi. Neanche il tempo di terminare l'anno scolastico in corso, che i sindacati sono già preoccupati per le cattedre scoperte nelle scuole bergamasche in vista del prossimo anno. Secondo i dati forniti dalla CISL, sarebbero 1.800 quelle scoperte, un dato che potrebbe peggiorare con l'avvicinarsi di settembre per via delle assegnazioni provvisorie. A rappresentare il nervo scoperto più dolente c'è il settore degli insegnanti di sostegno, che sono oltre 1.200 quelli mancanti, due terzi del totale. I sindacati sottolineano come l'aspetto più preoccupante sia quello di troppi contratti precari sottoposti agli insegnanti. A Bergamo e Interland adesso, perché due cascine si rinnovano e il mercato orto-frutticolo che si amplia. Due cascine della bergamasca rivedranno la luce nei prossimi mesi con progetti molto diversi tra di loro. La cascina Ponchia di Monterosso sarà ristrutturata e diventerà luogo di co-housing sociale, mentre a Curno la cascina Carlinga diventerà un estivo gestito dal Fabric, che in precedenza aveva già riportato in vita l'ex area Reggiani. Capitolo cascina Ponchia. Il via al cantiere è imminente e la cascina sarà destinata a persone con disturbi dello spettro autistico. Storia lunga e complessa quella della cascina, che il Comune aveva tentato di vendere, ma senza successo, diventando poi luogo di occupazione e polemiche. Ora la soluzione con 700 metri quadrati comunali, dove troveranno posto 7 appartamenti, 12 le persone che saranno ospitate per un'età compresa tra i 25 e i 45 anni. Da Monte Rosso a Curno, dove la cascina Carlinga, dal fascino inestimabile ma purtroppo ridotta in condizioni precarie, sarà teatro di un estivo gestito dal Fabric. Ad ora si parla di uno spazio estivo che prenderà il via il 19 giugno, ma rumors rivelano che il progetto è destinato ad ampliarsi e diventare più stabile, anche con l'aiuto di altri imprenditori. Ad oggi la cascina, oggetto già di riqualificazione da alcuni mesi, al sabato ospita il mercato agricolo. A proposito di mercati, quello orto frutticolo di Celadina si amplierà sullo stesso piazzale, con conseguente modifica di via Rovelli, dove scomparirà la chicane e la strada sarà trasformata in un lungo rettilineo. Operazioni entrambe che si inseriranno nella modifica generale di questa fetta di città, dovuta al passaggio del treno che porterà Versorio al Serio. Altri lavori, altre modifiche, questa volta allo stadio. Giovedì 8 giugno, questo è il giorno in cui la mitica curva sud inizierà ad essere abbattuta per dar via i lavori di costruzione dell'ultima parte del nuovo Gavis Stadium. La cantierizzazione dell'area inizierà lunedì prossimo, 5 giugno, proprio il giorno dopo l'ultima partita di campionato che l'Atalanta disputerà in casa contro il Monza. Il Gavis arriverà così ad una capienza di 25.000 spettatori, 4.000 in più di quelli che può accogliere oggi. L'intervento interesserà anche distinti e settore ospiti, con i tifosi dell'Atalanta che sono stati invitati nel piazzale della curva sud per salutare la curva oggi chiamata Morosini. Oltre ai nuovi spalti sarà anche realizzato un parcheggio sotterrano. I lavori finiranno a fine estate 2024, nel mentre la capienza sarà ridotta ovviamente di circa 3.500 posti. Il Comune di Bergamo adesso che è alla ricerca di famiglie che intendano prendere in affido minori stranieri non accompagnati, ovvero giovanissimi che fuggono da situazioni di guerra o estrema povertà raggiungono l'Italia, in particolare Bergamo per rifugiarsi e provare a rifarsi una nuova vita. Il periodo di affidamento può durare da alcuni mesi fino ad un paio di anni nel periodo di accoglienza se accompagnati da uno staff di esperti che contribuisce alla crescita del minore. Per informazioni e richieste è necessario mandare una mail a servizioaffidiambitobergamo.it e c'è una Bergamo che cambia, il tessuto sociale, economico, culturale, insomma sono tanti gli aspetti che stanno costruendo la nuova città, se ne è parlato nell'assemblea di Ascom. La città che cambia, innovazione, economia e socialità è il tema scelto da Ascom Conf Commercio Bergamo per la 78esima Assemblea Generale, un mondo che tre anni fa ha lasciato il posto all'incertezza, con il terziario che ha cercato di reagire ad un mercato che ha subito un forte cambiamento. Alcuni settori sono riusciti a reggere, altri segnano il passo come turismo montano, abbigliamento, calzature e locali da ballo. Decisivo sarà governare il cambiamento. E come cambierà Bergamo? Deve cambiare sicuramente meglio affrontando il futuro. Il futuro ormai per Bergamo e provincia non è solo manufatturiero, ma è sempre più servizi e turismo e proprio per questo il volto di Bergamo sta cambiando. Sta cambiando in forma estremamente importante l'iniziativa di Porta Sud, sarà sicuramente l'architrave di tutto questo. Il nostro ruolo sarà quello di dare un'anima a questa iniziativa. Il parametro è quello dell'economia di prossimità, cioè il commercio di vicinato. La città orobica risulta essere tra le più impegnate in tal senso. Un indicatore importante è quello delle locazioni. E lo vediamo esempio su un indicatore molto semplice che è quello dei negozi sfitti, che rispetto ad altre realtà dove noi stiamo lavorando come Brescia, Mantua, la stessa Genova o Parma, ha sostanzialmente dei numeri interessanti che dimostrano una forte tenuta del sistema locale di offerta. Molti gli argomenti trattati durante l'assemblea. Il sindaco Gori ha sottolineato l'importanza di equilibrare nelle zone turistiche il conflitto tra residenze e affitti brevi. L'assessore regionale Terzi ha invece parlato di una sottovalutazione del turismo come economia lombarda. Si può e si deve fare di più. Il territorio lo merita. Capitale cultura e olimpiadi esempi da considerare virtuosi. Per i prossimi anni occorre avere una visione del futuro. Nessuno dovrà rimanere indietro. La visione è assolutamente necessaria per immaginare delle città diverse da quelle che abbiamo oggi, che siano come ho detto più vivibili e più accoglienti. Noi come Commercio Nazionale abbiamo messo in piedi un progetto, si chiama Cities, città e terziario, innovazione, economia e socialità. Noi ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con turismo, cultura e gli aggiornamenti dell'Atalanta. Seconda parte del nostro notiziario che apriamo con un bilancio del primo quadrimestre del turismo in città. La piattaforma di Regione Lombardia che rileva le presenze nella città dicono che è stato un quadrimestre da record per Bergamo con oltre 280.000 presenze. Si tratta di un dato che supera di quasi 24 punti percentuali quello ottenuto nello stesso periodo 2019. Rispetto all'anno scorso i pernottamenti sono addirittura il 49% in più nel periodo gennaio-aprile. Buone notizie anche per l'Infopoint in Piazzale Marconi, alla Torre del Gombito e all'aeroporto di Orio Alseo con accessi notevolmente aumentati. La cultura è sicuramente uno dei traini per questa annata, cultura che sarà protetta ulteriormente nel tardo pomeriggio di sabato. Poco prima dell'inizio della Donizetti Night il teatro Donizetti riceverà lo scudo blu, il simbolo di protezione voluto dalla Convenzione dell'AIA del 1954 che difende i luoghi culturali dai conflitti armati. Il progetto, promosso dalla Croce Rossa di Bergamo, si inserisce in uno più ampio organizzato in occasione di Bergamo e Brescia, capitale della cultura, che punta a contraddistinguere 20 luoghi culturali con lo scudo blu. Dal Donizetti ad un'altra istituzione della cultura cittadina, l'Accademia Carrara, sono gli ultimi giorni per visitare la mostra dedicata al cecco del Caravaggio che aveva aperto questo anno da capitale della cultura. Inaugurata proprio alla fine di gennaio, resterà visitabile fino a domenica 4 giugno. Ad oggi ha già fatto registrare 66.000 visite con la Pinatoteca cittadina che punta all'ultimo weekend, lungo perché comprende anche il 2 giugno, per arrivare a quota 70.000 visitatori. Dal 23 giugno poi vi ha altre mostre, a cominciare da Vette di Luce che resterà allestita fino al 3 settembre. Una mostra che mette in relazione la pittura di fine ottocento con le fotografie di Naoki Ishikawa, protagonista ovviamente le alte vette, non solo orobiche. Lasciamo la cultura, parliamo di calcio. Atalanta, sarà Marco Di Bello di Brindisi ad arbitrare Atalanta-Monza, ultima giornata di campionato che andrà in scena al Gayways Stadium domenica sera, 4 giugno alle 21. I suoi assistenti saranno Pagliardini e Rossi, mentre al VAR siederanno Banti e Dionisi. Nel Monza sarà assente il difensore Giulio Donati che dovrà scontare un turno di squalifica. Tra le fila nera-azzurre invece sono da valutare le condizioni di Jeremy Boga, ma gli uomini di Gasperini saranno comunque contati, 15 quelli convocabili. Formazione quindi di fatto obbligata, col solo dubbio in avanti. Luckman potrebbe prendere infatti il posto di Ederson o Pasalic, a seconda delle condizioni e delle scelte di Gasperini per l'ultima partita di questa stagione. E noi adesso andiamo a vedere che tempo farà Bergamo e provincia nelle prossime ore. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo, anticiclone ancora assente sul nostro territorio per la giornata di giovedì che a tratti quindi sarà caratterizzata da condizioni di variabilità con dei fenomeni nelle zone interne delle isole maggiori e sui settori montuosi. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Lombardia. Ci attene una mattinata di giovedì tranquilla con ampi spazi assolati, maggiore variabilità tra pomeriggio e sera con dei rovesci tra Alpi e Prealpi, contesto climatico praticamente estivo con punte di 28-29 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo variabilità come vi dicevo tra pomeriggio e sera con dei rovesci anche a carattere di temporale sui settori montuosi, temperature massime fino ai 27-29 gradi in pianura. Valori come sempre registrati all'ombra, quindi al sole percepiremo qualche grado in più. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, situazione praticamente analoga, qualche rovescio da segnalare nuovamente sui settori montuosi in locale sconfinamento alle zone di pianura verso la fine della giornata. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 30-31 gradi. E infine diamo uno sguardo anche alla tendenza attesa per le prossime giornate, giornate che saranno caratterizzate da un po' più di variabilità, specie nelle weekend, ma come sempre questa è una tendenza per cui per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sul sito e l'app di Trevi Meteo. È tutto, non ci sono notizie dell'ultimo minuto, io mi fermo qui e vi rimando all'informazione domani alle 19.15.